Ciao bimbi, benvenuto a un nuovo lavorato creativo! Oggi vi mostrerò una nuova tecnica per colorare. Ci serviranno un piattino, scotch di carta, pennello, tempere e foglio. Incominciamo prendendo il foglio e con il nostro adesivo tracciamo delle linee, come vogliamo. Grazie per la visione! A questo punto prendiamo le tempere e incominciamo a colorare. Musica Musica Adesso togliamo il nastro di carta delicatamente. Musica Ed ecco qui! Il disegno finito!